Salve amici e amiche, le immagini di Putin con le cuffie al contrario sono vere, sfortunatamente però la sua esibizione al concerto no, anche se onestamente se si fosse dato alla Tecno avrebbe fatto sicuramente meno danni. Allora, oggi belli aggiornamenti, partiamo col dire che la mappa di Deep State, che non si aggiornava da due giorni, ci mostra oggi una situazione differente e infatti nella regione di Kursk possiamo vedere che gli ucraini stanno continuando a occupare territorio e consolidarlo. Continuano in questa regione gli attacchi aerei sistematici ai pontoni che i russi cercano di posizionare sul fiume Seim per dare supporto a circa 3.000 soldati russi isolati in questa parte della regione. Vi mostro le operazioni di entrambe le parti in questi ultimi tre giorni sulla mappa di Mayakosk 73. Gli ultimi dati aggiornati sono di ieri, con attacchi aerei ucraini proprio su questi pontoni che ho appena citato, qui e qui. E poi ci sono azioni di artiglieria da entrambe le parti e numerosi collegamenti a video di droni e dei loro attacchi. Per parlare invece dell'azione russa nel Donetsk, quindi ci spostiamo dalla parte sud-est della mappa, i russi continuano a occupare territorio ucraino. Fra ieri e oggi hanno essato bandiera nel villaggio di Krasny-Yar, qui. È una strada con alcune case fondamentalmente. Da parte ucraina, oltre ad infliggere enormi perdite ai russi, che insistono in questa direzione, sono arrivati diversi video in cui si vede l'evacuazione in corso dei civili dalla città di Pokrovsk. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. E questa azione fa presumere che presto la città potrà diventare un teatro di guerriglia urbana. Guerriglia urbana che potrebbe potrarsi per i prossimi mesi a venire, è l'inverno. Ma ci sono comunque delle incognite, vediamole. Nel senso, come sappiamo, l'offensiva ucraina nella regione di Kursk ha cambiato un poco le carte in tavola. Letteralmente, è cambiata anche la percezione di questa guerra un poco. E soprattutto sappiamo che qualcosa si sta muovendo anche all'interno della Russia in questo momento. Se dovessi riassumere in sette punti i cambiamenti, o meglio, gli obiettivi che gli ucraini hanno cercato di ottenere, vediamo che il primo era sicuramente un diversivo, lo abbiamo detto altre volte. È un diversivo con lo scopo di far spostare intere brigate dal fronte a sud verso la regione di Kursk. Questo obiettivo sappiamo che è già in parte è stato ottenuto, è stato, diciamo, completato, almeno in parte. Però, per vedere i risultati di questi spostamenti dovremo comunque aspettare i prossimi giorni, se non mesi, ma, come vedremo più avanti nel video, sappiamo che qualcosa si sta già muovendo nelle file ucraine. Il secondo obiettivo era quello di portare la guerra sul suolo russo e questo, possiamo dirlo, è stato completato con successo. Anzi, i risultati, molto probabilmente, sono andati molto oltre le aspettative degli ucraini stessi. Da un punto di vista politico, per Putin è stata una catastrofe, bisogna ammetterlo. E secondo molti analisti russi, questo sta portando ad una inevitabile rottura interna. Per cui, ecco, il trono del re, a detta loro, non è mai stato così pericoloso come in questo momento. E se consideriamo che il nostro DJ di oggi è sopravvissuto a qualcosa come undici tentativi di riemozione forzata dalla faccia della terra, che dire? No. Non c'è undici senza dodici, si dice? Ok. A questo proposito, fra l'altro, vi passo un'intervista molto interessante di questo canale che mi avete consigliato, in cui, come sempre, sottolineo quanto sia importante sentire il parere di un vero lusso su queste cose, su cosa pensano di Putin, su cosa pensano del proprio popolo. Perché, come si dice, i panni sporchi si lavano in casa, no? Qualcosa del genere. Non so se è un esempio calzante, ma, insomma, per rispondere anche a una vostra email, in cui un gentile signore mi ha chiesto come si fa a fare assimilare queste considerazioni ad un filo russo, la migliore risposta che posso dare è passandogli interviste a dei veri russi. Giusto per dire, no? Che quei canali italiani che si schierano pro-Russia forse hanno le idee un pochino confuse. Vi passo il link di questa intervista in descrizione. Marlina di Massima, ecco, diciamo che a confronto, quello che viene detto in quell'intervista, a confronto il caro Konstantin è uno che ci va molto, molto alla leggera. Il terzo obiettivo possibile che gli ucraini possono ottenere in questa invasione del territorio russo è, come dire, una carta diplomatica. Cioè, faccio un esempio per semplificare un po' questa idea. Immaginiamo adesso che Russia e Ucraina stiano giocando una partita a poker e che la Russia ha in mano le cinque carte delle regioni occupate. L'Ucraina fino a 15 giorni fa non aveva niente in mano, quindi oggi perlomeno ha qualcosa. Certo, è troppo presto per parlare di un asso nella manica, ma è già qualcosa di cui parlare ad un eventuale tavolo delle trattative che non sia, come dire, la resa incondizionata dell'Ucraina, la cessione dei territori occupati e di più la totale smilitarizzazione della nazione e la non adesione ad iterim della Nato nella Nato. Quindi, sì, possiamo dire che questo obiettivo della carta da giocare in termini diplomatici lo hanno raggiunto, finché lo tengono almeno. Il sesto obiettivo è di natura logistica, dove l'Ucraina ha dimostrato di avere risorse impreviste dal Cremlino, ed è stata capace di organizzarle, ridistribuirle e condurre con successo un'operazione militare. Poi, al settimo posto di questa mini-classifica, è che questa operazione offensiva ha risollevato il morale delle truppe, e non solo. Gli effetti di questa rivalsa, chiamiamola così, hanno galvanizzato tutto il mondo, letteralmente. Hanno dato uno scossone anche a quelle correnti russe antigovernative, anche se le loro azioni per adesso sono molto difficili da rilevare, ma sappiamo che esistono, perché è ovvio che non tutta la Russia è schierata con Putin. Una conseguenza di questo crollo, per esempio, la possiamo vedere nelle migliaia di soldati russi che si arrendono. Ottavo obiettivo, e questo per il momento non è stato ancora raggiunto, diciamo così, è che questa offensiva voleva ottenere un rallentamento delle conquiste russe sul suolo ucraino. Nono e ultimo, con questa iniziativa individuale, le forze ucraine hanno dimostrato al mondo intero che può fare di più che semplicemente opporsi ad un invasore. E questo ha portato a segnali positivi per le forniture militari, l'incremento delle forniture militari, l'utilizzo di queste sul suolo russo e il sostegno economico da parte dell'Occidente. Quindi questo è quello che penso ad oggi, il quindicesimo giorno dell'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Ma passiamo avanti. Uno dei canali che seguo saltuariamente è quello di War Carroll, ex navigatore di F-14 Tomcat, oggi in pensione. L'ho conosciuto perché, come si dice, abbiamo la passione per il volo in comune e usiamo, fra le altre cose, lo stesso simulatore. Non è insolito fare buone interviste e giusto ieri ha proposto un'altra di queste a Justin Bronk, analista militare inglese, presso il Dipartimento dei Servizi Uniti inglese. Stavo cercando, fra l'altro, delle informazioni a proposito degli F-16 ucraini, dato che in molti mi avete chiesto se ci sono sviluppi sul loro impiego operativo. L'intervista è lunga e ve la passo in descrizione, ma per sintetizzare, le cose interessanti che vengono dette non sono molte. Intanto abbiamo una conferma indiretta che il cosiddetto payload, cioè il carico di missili di cui abbiamo parlato nei video precedenti, a guardare quelle poche foto che circolavano, quel carico di missili potrebbe essere inesatto, cioè non corrispondere al reale parco missili a disposizione degli ucraini. Secondo l'analista inglese, non ci sono al momento elementi per parlare di forniture delle versioni più recenti dei missili aria-aria a medio raggio, AIM-120. Ma come ha giustamente fatto notare nella foto, AIM-120B, montato sulle estremità alari, è un modello da esercitazione. E questo dettaglio, fra l'altro, lo ammetto, mi era sfuggito, nel senso che vedendo solo la parte finale del missile, lo avevo adocchiato come la versione B, quindi la versione base dell'AIM-120B, che, voglio dire, è anche la più vecchia. Ma, appunto, se questa versione che vediamo nella foto è il CAT-M120B, è un missile da esercitazione, non è un missile operativo. E questo è un dettaglio veramente non da poco, perché, insomma, possiamo dire a questo punto che non sappiamo quali AIM-120 gli ucraini potranno realmente usare. Vi avevo parlato, vi avevo proposto, nei video precedenti, altre interviste ai istruttori di F16, insomma, ci sono voci contrastanti in cui si è parlato delle versioni C, che sono validissime, fino addirittura alle versioni D, che sarebbero, di fatto, molto, molto più cattivi delle versioni precedenti. Mentre al pilone più interno, immediatamente più interno, come ho anche indicato anch'io nel mio video precedente, quello è un missile a corto raggio, a guida infrarossa, la versione è la IM-9M. Ok? La stessa cosa dice l'analista inglese, ha fatto notare anche questo, che quel missile è un missile provvisorio, e che gli ucraini in realtà dovrebbero ricevere la versione più recente, la X, la IM-9X. Questo perché gli ucraini hanno già delle forniture di questi IM-9X, perché questi missili possono essere montati alternativamente ai 120, agli M120, proprio nei sistemi di difesa NASEMS, cioè le postazioni a terra, i NASEMS, possono lanciare o i 120 o gli M9X, in base alla scelta e al loro posizionamento. Ok, quindi, però, non ne illudiamoci, nel senso, perché l'utilizzo comunque di questi missili a corto raggio e degli IM-9X non incide su quelle che saranno le operazioni papabili dei 16 ucraini. Cioè, sarà molto difficile che arrivino a distanze di utilizzo dei missili termici, che sono praticamente a distanze in cui si usa il cannone, quasi, con i cacciarussi. E come si dice in gergo, se un pilota arriva a distanza di dogfight, significa che ha sbagliato una marea di cose prima. Ma, come dire, meglio avere gli IM-9X che non averli, visto che comunque gli IM-9M non li usa più nessuno, da almeno un decennio, ormai. Per quanto riguarda, poi, l'operatività di questi F-16, Bronk conferma che, al momento, i piloti ucraini stanno effettuando missioni di ambientamento nell'area delle operazioni. Per citare testuali parole, in missioni elusive. Ha parlato che, entro la fine dell'anno, la flotta sarà di circa una ventina di aeroplani, e questo ci dice che, molto probabilmente, questa risorsa di aeroplani verrà impiegata, legata essenzialmente nella difesa dello spazio aereo ucraino, a protezione degli obiettivi strategici, le infrastrutture energetiche, per esempio, da quegli attacchi di missili da crociera che preoccupano tanto Kiev da parte russa. Per poter parlare, poi, di operazioni aria-terra, insomma, è presto, se consideriamo almeno il tipo di missioni che sono nelle corde degli F-16, come, per esempio, la soppressione delle difese aeree, per citarne qualcuna, o la distruzione di obiettivi strategici, il supporto aereo ravvicinato. Tutte queste missioni, in realtà, vengono già affrontate con successo da altri aerei che hanno già gli ucraini, come, per esempio, il Su-27, che vediamo in questa bellissima immagine, che sta lanciando due missili AGM-88 americani. Quindi, la stessa missione può fare l'F-16 e lo può fare anche il Su-27. Diciamo, il F-16 può integrare questa missione con la capacità di identificare meglio i target di questi missili. Però, generalmente, quello che fanno i piloti ucraini con i MiG-29 e i Su-27 è lanciare questi missili in direzione della fonte da cui arrivano le radiazioni, scusate, le onde elettromagnetiche dei sistemi missilistici radar. Quindi, questi missili si agganciano sulla fonte, sull'emittente radar, e vanno a colpirla. Sono missili antiradiazione, si dice così, nel senso che sono pensati per distruggere le difese aeree. Oppure, per esempio, li abbiamo visti usare MiG-29 per fare aria a terra, lanciare bombe plananti, o i Su-25, per esempio. Insomma, hanno già questi aerei per fare supporto aereo avvicinato. E lo fanno anche con discreto successo, visti i pontoni del fiume Seim. C'è anche poi il discorso che, per ovvie ragioni, gli ucraini non vogliono rischiare di perdere gli F-16. Ho già parlato di questi aspetti in un mio video precedente, ma appunto, quando nella sua intervista l'analista inglese parla di elusività, probabilmente intendeva anche questo. Fra l'altro vi mostro questa immagine, perché penso e spero che questi saranno gli unici F-16 che i russi riusciranno a distruggere al suolo. E preparatevi, perché quando ci saranno le immagini di questi decoi che vengono fatti esplodere, i filorussi ci faranno un bel ricamino sopra, insomma. Passiamo avanti. Nel video di ieri avevo accennato che nella notte da parte russa era stato segnalato il più grande attacco con droni ucraino di tutti i tempi nella regione di Mosca. Le notizie di questo attacco sono arrivate e quanto riportato è che gli ucraini sono riusciti a fare il jackpot sull'aeroporto militare di Marenovka. Qui, ve lo mostro su Google Maps. Le immagini, che sono tante, mostrano enormi incendi e l'aeroporto è stato chiuso al traffico, non è più operativo. Parliamo di un aeroporto a 440 chilometri dal fronte, ok, qui, ed è sede di una squadriglia di su 24 e su 34. Tutti, scusate, tu 24 e su 34. Tutti i bombardieri utilizzati per fare i lanci di bombe plananti. Un altro aeroporto è stato colpito, questo proprio nella regione di Mosca, nelle ultime ore. Molto oltre Mosca, in realtà, ve lo mostro. Dai report ucraini più fonti, in realtà, viene affermato che un MiG-31K è stato distrutto e altri 5 sono stati danneggiati e almeno due aerei da trasporto Illusion 76 sono stati colpiti o distrutti. Dal fronte poi arrivano altre notizie di soldati russi che si arrendono. Vi ricordate i fanti di Marina di cui vi parlavo nei video precedenti? Proprio quelli che arrivavano dalla flotta a Stalingrad, a... no, San Pietroburgo, scusate. Bene, hanno fatto presto a finire nelle foto di gruppo, anche loro. Non vi posso mostrare le foto per le regole di YouTube, ma a parte le bende gialle sugli occhi e le mani legate, stanno bene. Insomma, i fanti di Marina dell'Ottocento Decima Brigata di Marine Russi stanno bene e però sono nelle mani degli ucraini. Spero, insomma, che continuino così ad arrendersi in massa. Insomma, è meno carne da cannone per Putin. In questa foto poi possiamo leggere un commento di un soldato ucraino, che non ve lo traduco, penso che il significato si capisca da solo. Ma andiamo avanti. Questo è un post di Max 24. Leggo il trafiletto. Le brigate ucraine attualmente in addestramento potrebbero essere schierate per rinforzare Kursk o il Donetsk, a seconda di dove le forze russe mostrano segni di debolezza. Questa flessibilità potrebbe consentire a Kiev di lanciare controoffensive nel 2025, piuttosto che semplicemente un altro attacco al Donbass occupato. Questa era la notizia che veniva dal Telegraph. E poi si aggiunge l'intelligence ucraina suggerisce che il prossimo obiettivo sarà la Crimea con il ponte di Kirk, che probabilmente verrà distrutto presto. E questo è molto interessante. Sono mesi che ci si aspettano attacco massiccio al ponte di Kursk, che taglierebbe letteralmente fuori l'Ucraina dall'equazione. E questo sarebbe solo il preludio di qualcos'altro in direzione dell'Ucraina. E guarda caso, notizia di oggi, o almeno di pochissime ore fa, Kavkaz, proprio qui, la città di Kavkaz, un'enorme colonna di fumo all'orizzonte, in questa posizione. Non posso mostrare le immagini, almeno spero che questa, almeno YouTube, me la consenta. Secondo diverse fonti, l'area è proprio quella del ponte, ma due ore fa, sempre da parte di Max24, i locali, a quanto pare, parlano di un traghetto in fiamme nel porto di Kavkaz, proprio qui. Notizia che è abbastanza interessante, perché questi traghetti erano già stati presi di mira nei mesi precedenti e per il loro ruolo di trasporto dei mezzi pesanti fra le due sponde. Vi lascio poi con l'intervista a Olga Romanova, attivista per i diritti umani, che racconta qualcosa di veramente drammatico che sta accadendo in Russia. Vi lascio il link in descrizione, se vi interessa. Ma per dirlo in breve, il Cremlino è passato dal fare reclutamenti forzati nelle carceri a reclutamenti forzati a tutte le persone arrestate in generale. Il che è veramente pessimo, se consideriamo che in Russia si rischia di essere arrestati sette anni di carcere per aver partecipato a un sondaggio, o se si è parlato male della guerra o di Putin. Insomma, il clima è questo. E quindi, insomma, mi ricollego alla domanda che mi è stata posta per quanto riguardava i filorussi italiani, che evidentemente non si rendono conto della fortuna che hanno a vivere in un paese dove è permesso di esprimere liberamente le proprie opinioni, anche quando sono totalmente deviate e malsane. Quindi, con questo vi saluto, vi passo il link di Katia Nesterenko in descrizione, che intervista il sociologo russo perché dice delle cose molto interessanti e fatemi sapere poi nei commenti, come sempre, cosa ne pensate. Non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Un abbraccio. Alla prossima.